E noi torniamo a parlare di salute perché come ho detto nel lancio del programma di quest'oggi noi siamo quello che mangiamo e quindi a tavola, a tavola, come mangiamo e cosa mangiamo è un fatto che determina anche la nostra salute. Gli alimenti in particolare sono amici del benessere o possono anche essere nemici del benessere e dipende appunto da come li usiamo, in che quantità e soprattutto anche come li cuciniamo. Tra poco ne parleremo in maniera approfondita ma prima per aprire questa puntata seguiamo questa scheda. Mettersi a tavola per sentirsi meglio è possibile, sì perché gli alimenti sono tra i principali alleati della salute, basta saper scegliere quelli giusti. Pasta, pesce, frutta e verdura infatti sono gli strumenti che la natura mette a disposizione per prevenire e combattere diverse patologie e di conseguenza per vivere più a lungo in buona salute. Ma quali sono questi alimenti? La scelta è ampia. Chi l'ha detto infatti che per star bene bisogna solo fare sacrifici? C'è la pasta al germe di soia adatta a chi soffre di diabete di tipo alimentare oppure c'è quella al germe di grano ricca di vitamine e oligoelementi per non parlare poi della lunga lista di ortaggi che difendono l'organismo dalle patologie tumorali.